Milano, una città sempre più tartassata, anzi per alcune voci la più tartassata in assoluto. Una recente ricerca effettuata da CAF Acli dimostra infatti che il capoluogo lombardo oggi è impietoso con coloro che possiedono delle case affittate, con la Tasi 2014 che fa segnare un aumento del 233% rispetto all'ICI del 2011. Si è passati in media dai 385 euro dell'ICI 2011 ai 1.282 del 2014. Ma non solo, anche il commercio e l'artigianato devono fare i conti con un'impennata vertiginosa di tasse e tributi, ad esempio per i depositi, i magazzini e i capannoni commerciali, dove si è passati da 1.642 a 4.868 euro, con un altro drastico aumento pari al 196%. Una situazione davvero insostenibile se si pensa che, oltre alle tasse, i milanesi devono confrontarsi con un potere d'acquisto più che dimezzato in pochi anni. Ecco perché le opposizioni alla giunta Pisapia annunciano una mobilitazione su scala metropolitana, Noi ci stiamo mobilitando come progetto nazionale, ma insieme a tutte le forze del centro-destra contro la giunta del sinistro Pisapia che sta tartassando i cittadini milanesi di tasse, di multe e di burocrazia. Le tasse sulla casa sono praticamente raddoppiate, come quelle sul plateatico, cioè sul suolo pubblico utilizzato dai nostri commercianti, come sono aumentati del 50% i biglietti del parcheggio, i biglietti dell'ATM e addirittura raddoppiati gli abbonamenti per gli studenti e per i pensionati. Tutto questo mentre la giunta Pisapia regala soldi agli zingari, ai clandestini e ai suoi compagni di merenda con laute consulenze quanto inutili. Ma la grave situazione economica è ulteriormente appesantita da Equitalia che, incurante delle enormi difficoltà che si abbattono da anni sulle famiglie e sugli imprenditori, non accenna ad allentare la sua morsa, continuando ad inviare centinaia di migliaia di cartelle esattoriali con tassi di interesse insostenibili. È una follia che il Comune e Equitalia, o meglio che il Comune non blocchi Equitalia, che continua a chiedere cartelle esattoriali anche ai commercianti gravemente danneggiati dalle vergognose sondazioni che hanno allagato Milano quest'anno, solo quest'anno, ben quattro volte, con almeno una 20 giorni di non lavoro per i nostri imprenditori.